Da Magri Arreda questo è il mese delle cucine al 50%, un'occasione imperdibile per chi ama le vere, belle cucine italiane. Qui ci sono tutti gli ingredienti necessari per una cucina da chef e tavole e sedie sono in regalo. Sì, da Magri Arreda oggi la cucina su misura si acquista così, con lo sconto del 50%. Lo so, lo sai, di Magri Arreda, tu ti innamorerai. Magri Arreda, io vi aspetto qui. Magri Arreda